Politica De Camillis, lavorerò per il bene del Molise dopo il giuramento di ieri dinanzi al Premier Lette, al Vice Alfano, il neo sottosegretario del PDL a Palazzo Chigi, elenca le priorità del Governo e dedica questo importante riconoscimento al compianto Florindo Daimmo. Regione Palazzo Moffa chiamato a discutere l'allargamento della giunta, procede l'iter per un esecutivo a 5, intanto è nato il pressing dei consiglieri per l'ufficializzazione delle deleghe, che il Governatore assicura arriverà a breve. Caso Iacovone ieri, l'incidente probatorio, dopo vari rinvisi, è svolto l'incidente probatorio per fare chiarezza sulla morte di Giuseppe Iacovone, il poliziotto deceduto in servizio a seguito di un inseguimento dalla perizia, sono emersi pareri contrastanti. Lega Pro, il Campobasso punta alla salvezza e Lupi battendo il Fondi, domani a Selva Piana, conserveranno il professionismo per il terzo anno consecutivo, Serie D, il Termoli si gioca la chance di vincere il campionato. Giallo Rossi di scena a Teramo contro il San Nicolò, l'Isernia cerca la salvezza contro il Fidene, l'Agnonese riceve la Maceratese. Buongiorno, ben trovati con l'informazione di Molise TV, apriamo con la politica. Dopo il giuramento dinanzi al Premier Enrico Lette, al Vice Angelino Alfano, ha incontrato gli organi di stampa il neo sottosegretario del PDL a Palazzo Chigi, Sabrina De Camillis, che ha sottolineato come ora il Governo abbia bisogno di due priorità, toni bassi e lavoro intenso. Sentiamo. Il raggiante Sabrina De Camillis, che dopo essere stata consigliera, assessore regionale deputata, è anche la prima donna del Molise a entrare a Palazzo Chigi, perché è nominata sottosegretario ai rapporti col Parlamento e coordinamento delle attività di governo, e che dopo il giuramento di ieri, dinanzi al Premier Enrico Lette, al Vice Angelino Alfano, ha incontrato gli organi di informazione della propria regione, insieme al coordinatore regionale del PDL, Ulisse Di Giacomo. E' proprio quest'ultimo a introdurre la De Camillis e a sottolineare come, per questo risultato, il centrodestra abbia saputo giocare la partita a discapito del centrosinistra, attraverso un atteggiamento responsabile senza alcun pressing sul partito. Un risultato, quello del PDL, che risarcisce lo scippo del seggio alla Camera, tolto al Molise attribuito all'Umbria, per il complesso meccanismo dei resti e per il quale, pessimo secondo la De Camillis, è stato l'atteggiamento delle istituzioni locali, che l'hanno intesa come una sconfitta del PDL e non del Molise intero. Lavorerò per gli obiettivi del popolo italiano, esordito il neo sottosegretario, che ha dedicato questo importante riconoscimento alla persona con la quale è iniziato l'avventura politica, ovvero il segretario del Partito Popolare Italiano, scomparso recentemente, Florindo Daimmo. Io ho una caratteristica che forse il mio partito ha individuato, quello di riuscire a dialogare sempre e comunque. E in questo momento è indispensabile dialogare per riuscire a portare al Paese le cose che servono. Quello che non serve è litigare e provocare, che è un mestiere che non mi appartiene e non mi apparterrà neanche in questo ruolo. Non nascondendo di aver ricevuto molte telefonate dagli esponenti del centro-destra, ma nessun riconoscimento da parte del centro-sinistra, si è poi auspicata di poter lavorare in qualche modo insieme al Presidente Frattura per il bene del Molise. Per la Regione Molise io immagino che il primo percorso che dobbiamo mettere in campo insieme ai rappresentanti istituzionali di questa Regione è un sistema di riqualificazione delle spese, della spesa in tutti i settori. Noi abbiamo le risorse necessarie per avere una Regione competitiva e all'altezza, essere attrattiva per il sistema Paese. Questo lo possiamo fare soltanto se riusciremo a fare insieme un percorso di ammodernamento della nostra Regione e di innovazione della nostra Regione. Ora anche il coordinatore regionale Ulissi Di Giacomo si augura invece che vertici del Popolo della Libertà riconoscano il suo contributo, assegnandogli un incarico prestigioso. In alternativa Di Giacomo è stato chiaro, vorrebbe che Berlusconi gli lasci il seggio al Senato. Rivolgo le mie più vive congratulazioni a un'amica Sabrina De Camilis per l'incarico ricevuto dal nuovo governo Letta. Questo il commento del sindaco di Termoli Antonio Di Brino all'indomani della nomina alla carica di sottosegretario dell'ex deputato del PDL Sabrina De Camilis. Finalmente il Molise riconquista un importante punto di riferimento all'interno del governo italiano, ha concluso Di Brino. Le auguro un pronfiguo lavoro affinché possa rappresentare le problematiche della nostra terra con l'auspicio che possa trovare soluzioni che mirino a superare questo momento di forte difficoltà. In riunione la maggioranza di Palazzo Moffa ha chiamato a discutere la sostituzione di Michele Iorio con Nico Romagnuolo. Intanto, mentre procede l'iter per l'allargamento della giunta, è in atto il pressing dei consiglieri sul governatore Frattura per l'ufficializzazione delle deleghe. Sentiamo i dettagli nel servizio. In attesa del prossimo consiglio regionale, quando il presidente Frattura illustrerà le linee programmatiche, si è tenuta la riunione di maggioranza dove i punti fissati dal numero 1 di Palazzo Moffa sono già stati anticipati a consiglieri e assessori. Primo obiettivo quello di riunioni di coalizioni con cadenza settimanale, per le quali è stato già indicata la giornata del lunedì. Ha affrontato anche il tema della sostituzione con Nico Romagnuolo del consigliere Michele Iorio, fuori dai giochi di Palazzo Moffa, a seguito della legge, liste pulite della sentenza di condanna per il caso della BNCO. Questione questa all'ordine del giorno della prossima assemblea regionale, sulla quale però il centro-sinistra continua a interrogarsi per capire se il posto di Iorio possa essere ricoperto per alcuni mesi dall'ex delegato per la ricostruzione posto sisma oppure no. E proprio per far luce su tale aspetto la maggioranza ha chiesto un parere all'ufficio legale della regione. Se a fare da sfondo alla riunione c'è stato poi l'allargamento della giunta per il quale durante il consiglio regionale di lunedì si discuterà la delibera 160 che propone l'abrogazione della legge 21 del 2012 sul numero dell'esecutivo, un altro tema affrontato è stato quello dell'assegnazione delle deleghe, per cui alcuni esponenti della coalizione sarebbero esercitando pressioni su frattura. Come già allargamente anticipato, infatti il governatore dovrebbe così distribuire i compiti. La ricostruzione post-sisma e dunque il settore della protezione civile al comunista Salvatore Ciocca, lo sport all'ex calciatore Carmelo Parpiglia, a Francesco Totaro il turismo e la cultura Nico Ioffredi di Selle. Ma anche se tali deleghe ancora non sono state ufficializzate, è stato lo stesso frattura a rassicurare i consiglieri. Il tutto avverrà in tempi brevi, ha infatti confermato il presidente. Il presidente del consiglio Enrico Letta ha modificato le deleghe assegnate al sottosegretario Micaela Biancofiore, che d'ora in poi si occuperà di pubblica amministrazione e semplificazione e non più di pari opportunità e sport. La decisione è giunta dopo le dichiarazioni della Biancofiore sugli omosessuali all'indomani delle dichiarazioni del premier Letta, che aveva richiamato la squadra di governo a sobrietà nell'organizzazione dei ministeri, ma soprattutto nelle dichiarazioni, facendo notare come una squadra bipartisan deve avere necessariamente massimo rispetto reciproco. Dopo vari rinvisi, è svolto ieri presso il Tribunale di Sernia l'incidente probatorio per fare chiarezza sulla morte di Giuseppe Iacovone, il poliziotto in servizio deceduto lungo la statale 85 a Macchia di Sernia a seguito di un inseguimento. Dalla perizia sono emersi pareri contrastanti da parte delle parti in causa. Per la morte di Iacovone, lo ricordiamo, è indagato un medico di Sernia. Sentiamo Arianna Gentile. Non ci sono ancora i presupposti per chiudere la fase dell'incidente probatorio chiesto per fare chiarezza sulle cause della morte di Giuseppe Iacovone. La perizia effettuata dal consulente tecnico Achille Farra c'è richiesta dalla difesa per stabilire se il medico di Sernia, l'unico nome iscritto nel registro degli indagati, fosse o meno in grado di sentire la sirena della volante o di vedere il lampeggiante, non ha fugato alcun dubbio. Per Marco Franco, l'avvocato del professionista di Sernia, non c'è stato alcun inseguimento, in quanto la distanza tra il SUV guidato dal suo assistito e la macchina della polizia non lo consentiva, così l'avvocato difensore al termine della lunga udienza che si è tenuta presso il Tribunale di Sernia. È di parere opposto invece il legale della famiglia del poliziotto morto sulla statale 85 nei pressi del bivio di Macchia di Sernia. L'avvocato Arturo Messere, dopo aver analizzato punto per punto la perizia effettuata lo scorso dicembre sul luogo della tragedia, ha dichiarato che la posizione dell'indagato sia invece aggravata. Dico questo, ha detto l'avvocato Messere, perché dalle risposte mancate, dubitative e da quelle non date, mi pare che non si sia aggiunto scemato nulla a proposito delle responsabilità. Dunque i pareri sono contrastanti ed è per questo che è stata chiesta una nuova perizia e la sostituzione del perito. Sarà il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sernia, Antonio Riuscito, a decidere se accogliere o meno e quindi ripartire da zero la risposta in settimana. I lavoratori della gamma, i trasportatori e gli allevatori ieri in presidio davanti alla giunta regionale, come abbiamo ampiamente mostrato nel corso dei notiziari di ieri, non sono stati ricevuti dal presidente della giunta regionale, Paolo Di Laura Frattura, né tanto meno dall'assessore alle attività produttive, Massimiliano Scarabeo. Così i dipendenti dell'azienda Vicola di Boiano hanno sottoscritto un nuovo documento attraverso il quale hanno chiesto ai vertici della regione Molise un incontro in via d'urgenza. Non c'è stata risposta da parte dei vertici della giunta regionale, così i lavoratori hanno deciso che lunedì mattina resteranno davanti ai cancelli bloccando la produzione. I lavoratori temono che questa volta l'azienda possa chiudere, la prossima settimana sarà possibile macellare soltanto per due giorni e così hanno deciso di intraprendere la strada del muro contro muro nei confronti della proprietà, che attualmente è la regione Molise. Le forze di polizia hanno effettuato controlli sul territorio nel centro cittadino di Termoli e lungo la costa adriatica, finalizzati al contrasto dal fenomeno dei furti in appartamento. A tal fine sono stati predisposti i posti di controllo in prossimità della statale 16 e della tangenziale nord di Termoli, oltre ad essere stata effettuata una vigilanza nei quartieri periferici. I controlli proseguiranno, mentre in quelli degli ultimi due giorni sono stati controllati 51 veicoli per un totale di 100 persone identificate, una delle quali aveva l'obbligo di dimora nel comune di Venafro. Ci spostiamo ora ad Agnone. Un altro duro colpo per la sanità molisana potrebbe giungere dalla chiusura dell'unità operativa complessa di diabetologia dell'ospedale Caracciolo. In una lettera aperta il dirigente Antonio Antonelli spiega le motivazioni. Vediamo. Il diabete è una patologia in continuo aumento, soprattutto nell'area dell'Alto Molise, ed un nuovo pesante colpo sta per essere inflitto alla sanità molisana e ai pazienti dell'ospedale Caracciolo di Agnone. La carenza di personale infermieristico nell'ambulatorio di diabetologia del nosocomio alto molisano è solo uno dei motivi che hanno spento il responsabile Antonio Antonelli a denunciare in una lettera aperta una situazione non più sostenibile sia per il personale sanitario sia per gli stessi pazienti. Antonelli si rivolge al contempo alle istituzioni e alle associazioni di categoria affinché intervengano per sanare la problematica. Il rischio più probabile è quello della sospensione dell'assistenza diabetologica erogata da decenni dall'unità operativa complessa di medicina interna dello stabilimento ospedaliero di Agnone. Uno scenario futuribile, piuttosto desolante. È incredibile, scrive il medico, ma l'attività ambulatoriale da diversi mesi non può avvalersi del supporto sistematico e della collaborazione di un infermiere per sei, dico solo, sei ore settimanali. Per le visite ambulatoriali, precisa il dottor Antonelli, programmate in giorni ed orari prestabiliti ormai da anni, l'infermiere di volta in volta in maniera casuale e improvvisa viene messo a disposizione all'ultimo istante. La promessa del dirigente è di continuare a chiedere alle istituzioni preposte e alle associazioni di salvare l'ambulatorio di diabetologia. Fino a questo momento i tentativi attuati si sono rivelati vani. Le pressanti richieste del dirigente medico si sono trasformate nelle ultime settimane in protesta verbale e sono culminate in una vera e propria minaccia di sospensione dell'attività ambulatoriale che diverrebbe operativa, previa e informativa delle istituzioni agli uffici dirigenziali preposti al presidente dell'Associazione Nazionale e Regionale dei Pazienti Diabetologici al fine di non incorrere nel reato di interruzione di pubblico servizio. Dunque, un imminente rischio di blackout nel segmento diabetologico del caracciolo e a pagarne le conseguenze restano sempre i pazienti. Bene, vediamo ora la cronaca. I carabinieri di Cassacalenda hanno sorpreso tre persone del Foggiano intenti ad asportare un cancello di ferro situato su un terreno di proprietà di un 71enne del posto. I tre sono stati denunciati a piede libero per tentato furto aggravato e segnalati alla questura di Campobasso per l'emissione del rimpatrio con foglio di via e di vieto di ritorno. I carabinieri di Termoli invece hanno arrestato un 56enne del luogo per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo nell'area di servizio dell'AIP sul lungomare Cristoforo Colombo in stato di alterazione psicofisica recava disturbo ai clienti. I carabinieri lo hanno trasportato nel vicino commissariato di polizia dove è stato trattenuto in cella di sicurezza dopo essersi scagliato contro un militare dichiarato guaribile in cinque giorni. Processato per direttissima il 56enne è stato trasferito in carcere. Il presidente della provincia di Isernia Luigi Mazzuto è pronto per un rimpasto della sua giunta. Tanti sono i malumori tra le forze politiche della maggioranza ma il presidente della provincia Pentra guadagna tempo in vista delle elezioni comunali di maggio. Scalpitano gli animi nell'ente provinciale di via Berta Isernia. Il presidente della provincia Luigi Mazzuto può rimescolare le carte nella sua giunta spinto dal coordinatore regionale del progetto Molise Mario Lombardi che ha tutte le buone intenzioni di cambiare pagina ma in prossimità delle elezioni comunali il rimpasto potrebbe slittare di qualche giorno. Mazzuto sembrerebbe pronto a firmare la revoca delle deleghe dell'assessore di Lucente per affidarle a Lombardi ma è guerriglia nella maggioranza degli altri gruppi politici. Alleanza per il Molise e Molise Civile hanno oramai un loro preferito ovvero rimettere in sella l'ex presidente della provincia Pentra Raffaele Mauro e forse è questo l'ostacolo più grande da affrontare. Mazzuto durante l'ultima riunione del Consiglio Provinciale ha ricevuto un messaggio forte e chiaro da progetto Molise quando Lombardi ha precisato che il suo insedimento in giunta deriva da un senso di responsabilità e di coerenza. Alla questione Lombardi si è giunta anche la questione Mancini pronto ad entrare nella maggioranza purché gli venga affidato un incarico nell'esecutivo. Certo vincere le elezioni comunali di Selnia gli consentirebbe ridare anche un riordine all'aggiunta provinciale. Tutto questo però si saprà solo a fine mese di giugno quando il Consiglio Provinciale dovrà approvare il bilancio. Superato lo scoglio delle elezioni il Presidente della Provincia di Selnia avrà circa due mesi di tempo per rimettere a posto i tasselli dell'esecutivo e per garantirsi una maggioranza per la quale governare. Ci spostiamo a Aururi dove un uomo è deceduto durante la carrese che si è svolta nella giornata di ieri il 65enne e stava guardando dal balcone della sua abitazione la tradizionale corsa dei carri trainati dai buoi quando improvvisamente si è accasciato a terra dopo aver visto il carro dei giovanotti tagliare per primo il traguardo e dopo aver visto il figlio in sella un cavallo l'uomo è stato colto da un infarto immediatamente sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che tuttavia non hanno potuto fare nulla. Ci spostiamo a Termoli dove si è tenuto un tavolo tecnico per l'individuazione e la programmazione degli interventi da attuare nel porto un incontro che ha visto protagonisti rappresentanti delle istituzioni locali e gli operatori del settore etico il servizio. Un tavolo tecnico quello dedicato al porto di Termoli che fa seguito ad un ordine del giorno proposto dalla minoranza e votato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Termoli un'iniziativa intrapresa dal Vice Sindaco Ferrazzano finalizzata ad individuare e programmare gli interventi da realizzare nell'area portuale di Termoli tra i protagonisti dell'incontro gli assessori Bruno Verini e Vincenzo Sabella i consiglieri comunali Agostino Defensa Stefano Perricone e Paolo Marinucci i rappresentanti della sezione area quarta servizio difesa del suolo e opere idrauliche e marittime della regione Molise la Capitaneria di Porto il dirigente comunale del settore lavori pubblici le organizzazioni di settore e tutti gli operatori portuali della pesca e del turismo un tavolo tecnico in cui tutti i soggetti coinvolti hanno espresso le proprie istanze relativamente alle problematiche vissute dal porto di Termoli veicolando richieste specifiche da portare all'attenzione di tutte le istituzioni locali e regionali numerose le problematiche segnalate dai rappresentanti della Capitaneria di Porto dalla sicurezza delle banchine ai parcheggi alla segnaletica stradale convergenza unanime di pareri sulla problematica relativa al drenaggio del fondale e sul piano regolatore del porto aspetti imprescindibili che necessitano di un intervento immediato e continuano i controlli della Capitaneria di Porto mirati a reprimere ogni condotta illecita nel settore ittico sequestrati 25 kg di ricci di mare pescati illegalmente in prossimità della foce del fiume Biferno alle prime luci dell'alba i ricci ancora vivi sono stati prontamente rigettati in mare con l'ausilio della motovedetta della Capitaneria di Porto l'uomo responsabile dell'attività illecita è stato sanzionato con 4.000 euro di multa perché la pesca del riccio di mare è vietata nei mesi di maggio e giugno a dieci anni dalla nascita dell'osservatorio sul diritto di famiglia della sezione di Campobasso a tracciarne un bilancio dell'attività il presidente l'avvocato Giuseppina Cennamo durante l'incontro promosso per l'occasione che ha avuto come tema le violazioni dei doveri coniugali sentiamo un occhio sempre attento sulla ricerca e lo studio quello dell'osservatorio sul diritto di famiglia della sezione di Campobasso giunto al suo decimo anno di vita numerose anche le attività svolte così come raccontato dal presidente noi da dieci anni ad oggi praticamente abbiamo un po' sviscerato tutte le tematiche più importanti e più rilevanti quali ad esempio gli aspetti patrimoniali della famiglia l'audizione del minore l'assegnazione della casa coniugale il mantenimento la violenza in famiglia insomma tantissime di queste tematiche che sono ormai di ordine pubblico e quindi voi tutti anche già le conoscete e proprio per festeggiare questo importante traguardo l'osservatorio ha proposto un incontro per l'aggiornamento professionale sul tema delle violazioni dei doveri coniugali un argomento non certo casuale che va di pari passo con una società che evolve e che chiede agli avvocati esperti in materia un continuo adeguamento alla normativa ne parliamo perché siamo stati stimolati ultimamente da due recenti sentenze della Cassazione che hanno stabilito un principio diciamo un po' rivoluzionario nel senso che quando c'è violazione dei doveri coniugali e quindi quando c'è l'illecito endofamiliare non si applica più solo o almeno non solo il diciamo la sanzione prevista dal diritto di famiglia che è l'addebito o che so in caso di abbandono senza giusta causa della casa coniugale ecco la sospensione dei doveri morali e materiali ce ne occupiamo perché la Cassazione ha precisato che al di là dell'aspetto ecco per esempio a debito può esserci ovviamente dove ne ricorrono i presupposti il risarcimento del danno intendendo per essere non solo il danno patrimoniale ma anche e soprattutto il danno esistenziale il presidente dell'osservatorio si è poi anche espresso sul ruolo della mediazione familiare nel diritto di famiglia dipende moltissimo da quello che la coppia vuole fare perché lì occorre il consenso di entrambi i coniugi altrimenti non si può mediare è un istituto che si va affermando speriamo che riesca nello scopo e sarebbe diciamo utile per tutti durante l'incontro un ringraziamento particolare il presidente Cennamo lo ha poi rivolto all'ordine professionale degli avvocati del capoluogo che in tutti questi anni ha sostenuto l'attività dell'associazione riconosciuta nell'ultimo congresso di Genova come uno degli osservatori più attivi del paese domani mattina Isernia si terrà una corsa di beneficenza non competitiva di 5 km per raccogliere fondi per la ricerca sulla malattia di Huntington la gara di solidarietà è stata organizzata dalla LIR e dalla nuova atletica Isernia tutti potranno partecipare sentiamo Arianna Gentile la LIR e l'associazione sportiva di lettantistica NAI nuova atletica Isernia hanno organizzato una corsa di beneficenza non competitiva di 5 km per raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulla malattia di Huntington la gara di solidarietà è aperta a tutti coloro che desiderano dedicare qualche ora al proprio benessere fisico e psicologico aiutando al tempo stesso chi è affetto da questa grave malattia rara e neurodegenerativa che in tutta Italia affligge circa 7000 persone chi vuole dare una speranza a chi ne soffre offrendo un proprio contributo alla ricerca scientifica può raggiungere domani mattina alle ore 10.30 a piazza Giustino d'Uva di Isernia la malattia di Huntington è ereditaria e colpisce prevalentemente il cervello e i muscoli si trasmette da uno dei genitori ai figli e compromette gravemente la coordinazione dei movimenti le capacità cognitive e il controllo emotivo per questo la LIR la Lega Italiana Ricerca Huntington invita tutta la cittadinanza a partecipare è un invito che rivolgiamo a tutta la popolazione di Isernia ad intervenire in una corsa che è una corsa di solidarietà non competitiva quindi una passeggiata per aiutare a mantenere alta l'attenzione verso le malattie rare e più specificamente verso la coria di Huntington è una malattia veramente dai connotati drammatici genetica del sistema nervoso quindi invito tutte di intervenire a sostenere questa iniziativa che vuole essere a favore della raccolta di risorse per la ricerca scientifica è una malattia che non possiamo ancora guarire purtroppo che curiamo in una maniera sintomatica cioè ne curiamo gli effetti clinici gli sintomi clinici ma non purtroppo possiamo attualmente ancora bloccare guarire quindi evitare che si sviluppi e che abbia la sua progressione il suo epilogo drammatico in Molise quante persone sono affette dalla malattia di Huntington? in Molise che ha circa 300.000 persone noi pensiamo ci siano almeno 30-40 persone ammalate ma il nostro personale sospetto è che la frequenza della malattia forse per l'attenzione che c'è particolare in questa regione per l'interesse che noi abbiamo scientifico sia molto molto più alto bene il nostro telegiornale termina qui vi lascio alle previsioni del tempo grazie per averci seguito e buona giornata il meteo è offerto da al di là delle parole se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza arte e scultura riuscirai a creare armonia e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere naturalmente bella naturalmente bella naturalmente bella a Campobasso in via Campagna 215 previsioni del tempo per la giornata di domenica 5 maggio nuvolosità irregolare con piogge sparse o isolati temporali sulla regione venti deboli o moderati settentrionali mari generalmente poco mossi temperature in lieve e diminuzione nei massimi ma vediamole nel dettaglio Campobasso minima 12 massima 15 gradi Isernia minima 13 massima 16 Termoli minima 15 massima 19 gradi il meteo è stato offerto da al di là delle parole se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza arte e scultura riuscirai a creare armonia e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere naturalmente bella naturalmente bella naturalmente bella a Campobasso in via Campagna 215 e la l'anima l'anima Grazie a tutti.